Un protocollo d'intesa con Anci che parte dal Comune di Napoli insieme all'Anci Campania con l'obiettivo di lavorare su quelli che sono i progetti culturali guardando essenzialmente al bacino del Mediterraneo. Con la sottoscrizione di un protocollo d'intesa Comune di Napoli e Anci Campania si impegnano a promuovere attraverso il dialogo con gli organismi regionali, nazionali ed europei un piano di politiche e di investimenti per lo sviluppo culturale e sociale dei territori. L'idea è rendere Napoli e i comuni della Campania punto di riferimento per un'azione sinergica tra tutte le città che si affacciano sul Mediterraneo avviando una sinergia che preveda anche la possibilità di investimenti comuni. Intanto costruire delle politiche di coesione, di internazionalizzazione, le autonomie locali iniziano a fare sinergia noi vogliamo portare i 550 comuni della Campania insieme naturalmente alla grande Napoli ad essere guido del Mediterraneo, del bacino del Mediterraneo e costruire delle politiche assolutamente non soltanto di internazionalizzazione ma best practice, formazione, politiche di inclusione, politiche europee. Permetterà sicuramente di rilanciare il tema euro-mediterraneo partendo dalla centralità dei consigli comunali che sono il luogo deputato ad interloquire con le istituzioni e rappresentare un momento di innovazione, potremmo dire di transizione. Abbiamo voluto fortemente istituire formalmente la confermenza internazionale degli enti locali con la collaborazione dell'ANCI e del CIEM che è da anni interessato e impegnato su questa materia è frutto di un ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale nella primavera scorsa all'unanimità e che ci dà una struttura non solo istituzionale ma anche un luogo di dialogo con i territori, con i paesi, con i comuni del Mediterraneo. Noi abbiamo avuto a Napoli la riunione dei ministri della cultura del Mediterraneo che era stata voluta da Franceschini proprio con l'idea che Napoli potesse essere punto di riferimento per un'azione sinergica tra tutte le città che si affacciano sulle sponde del Mediterraneo e questo è il lavoro che faremo insieme a l'ANCI partendo da questo protocollo.